Corinna, la moglie di Michael Schumacher, continua a dire alla stampa che il marito migliora anche se lentamente. Eppure l'incidente di cui è rimasto vittima il famoso pilota di Formula 1 non può ovviamente non aver portato conseguenze che continuano a manifestarsi ancora adesso. Corinna ha infatti deciso di vendere l'aereo personale di Schumacher, sostenendo, come prevedibile, che il velivolo necessiti di costante manutenzione che ora per ovvi motivi non viene eseguita. A diffondere la notizia è il quotidiano tedesco Bild, che ha annunciato che il jet Falcon 2000 EX costerà 15 milioni di euro, ben 10 milioni in meno del prezzo pagato dal pilota al momento dell'acquisto. Del resto è ovvio che, manutenzione a parte, per Schumacher sarà veramente difficile tornare a pilotare l'aereo, che può portare fino ad 8 passeggeri. Il pilota lo guidava per circa 400 ore all'anno e aveva dotato il velivolo di un logo e il numero di registrazione M. Eichel personalizzati.